Oggi voglio parlarvi di un tema molto semplice, l'intelligenza agricola. E per farlo vorrei portarvi un caso reale, un esempio che è sotto gli occhi di tutti, l'esempio di Le Rogaje, una famiglia che in Toscana è riuscita a comunicare in maniera efficacissima quello che è il concept dell'agricoltura e della zootecnia. Sì, devo fare il mio applauso, i miei più sentiti ringraziamenti a coloro che in soli due anni nel canale YouTube sono arrivati a quasi 40.000 iscritti. Qual è la formula che ha portato al successo questo esperimento? È una formula secondo me di semplicità, di chiarezza e di abbattimento di convinzioni sbagliate. Sono riusciti con la loro comunicazione immediata e semplice a dare un'informazione chiara e logica al mondo di quella che è l'agricoltura e la zootecnia italiana. Semplicemente con i loro video sono riusciti a trasferire quelle che sono le difficoltà di lavorare nelle stalle. Sono riusciti anche però a trasmettere la loro vision, la loro mission. E questo è importantissimo al mondo d'oggi perché troppo spesso vengono date delle notizie false e sbagliate sull'agricoltura e sulla zootecnia. Sono riusciti a spiegarvi le rotture dei mezzi agricoli, sono riusciti a spiegarvi loro delle rogaie quanto è importante la foragicoltura in Italia e quanto i ruminanti riescono a trasformare queste essenze foraggere in alimenti di elevato valore qualitativo. Sono riusciti anche a condividere la passione che gli allevatori hanno per il benessere e i loro animali spiegando come la produttività e l'economia di un'azienda deriva prevalentemente da quello che è l'impegno verso il benessere animale. Se guardate soprattutto gli ultimi video di Edoardo, di Dadi, chiaramente si riesce a percepire quelle che sono le prossime mosse che loro faranno. Quindi io avrei molto piacere di incontrarli. Chiedo alla mia community solo una cosa, quella di iscrivervi al canale Le Rogaglie. Vi chiedo di andare a vedere questo video, quello in cui Dadi manifesta il desiderio di una nuova stalla, di un investimento nuovo per il benessere degli animali, all'interno del quale video voi ritroverete tantissimi dei concetti che io vi ho trasferito in questi anni. Quindi a rispetto di quello che può essere il titolo, che non rende l'idea, guardate veramente questo video che vi metto in sovraimpressione, entrate nel canale delle Rogaglie se non lo conoscete già, ma sono sicuro che lo conoscete abbondantemente e iscrivetevi subito al loro canale. Mi piacerebbe fargli raggiungere rapidamente i 40.000 iscritti. Se lo meritano tutti, complimenti a tutta la famiglia dell'azienda agricola Le Rogaglie. Ciao e ci vediamo presto!